60 anni della Banca Montepruno ed un ricco cartellone di appuntamenti che l'Istituto di Credito, diretto da Michele Albanese, ha voluto organizzare per condividere insieme a soci, amici e clienti i successi raggiunti, ma anche per ripercorrere insieme 60 anni intensi, iniziati dal sogno di 30 coraggiosi che dal piccolo centro di Roscigno, negli Alburni, posero le basi per una grande banca diventata oggi tra le più importanti del sud Italia, per valori e spesso esempio di buona pratica. Un anniversario importante che arriva in un anno ricco di successi con il direttore Michele Albanese e la Banca Montepruno, spesso protagonisti di emittenti nazionali, per parlare proprio del ruolo che le banche, in particolare le banche dei territori, come sono considerate le BCC, devono ricoprire a sostegno di famiglie, imprese e giovani, garantendo quel sostegno necessario allo sviluppo del territorio oltre che della persona. Un sostegno da sempre garantito dalla Banca Montepruno, che alla base della sua azione ha sempre messo l'ascolto e la conoscenza, creando quel legame forte di fiducia e rispetto tra l'istituto di credito e il territorio su cui opera. Un legame che ha portato la Banca Montepruno a voler condividere i successi raggiunti in questo anno 2022 e l'importante compleanno dei 60 anni, proprio con il suo territorio, in un ricco programma di appuntamenti, partito dagli Alburni, e che si concluderà con il Gran Galà del 10 settembre al Paladin Flex di Atena Lucana. Dopo i primi appuntamenti aperti a Laurino il 10 agosto scorso e proseguiti a Roscigno nei giorni del 12, 13, 14 e 15 agosto, la Banca Montepruno, con la collaborazione della Fondazione Montepruno, ha organizzato una serata finale di grande interesse culturale ed anche di creativo, in programma il 10 settembre prossimo, con inizio alle 18.30. Presso il Paladin Flex di Atena Lucana si terrà un incontro di battito che precederà il grande concerto di Red Canzian dei Pu. Alle 19 il convegno si aprirà con i saluti della Presidente Anna Miscia e l'intervento sulla situazione aziendale attuale della Banca da parte del Vice Direttore Generale Cono Federico, coordinati dalla giornalista Anna Maria Sodano. Nel corso dell'incontro interverranno Amedeo Manzo, Presidente della Federazione Banca e della Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria, Augusto Dell'Erba, Presidente di Federcasse, Sandro Bolognesi e Giorgio Fracalossi, rispettivamente amministratore delegato e Presidente di Cassa Centrale Banca. Successivamente il direttore generale Michele Albanese, intervistato da Tony Accartolano, nota giornalista Sky, traccerà le fasi salienti dei 60 anni di storia della BCC. La serata sarà conclusa dal concerto stasera non sono solo di Red Canzian, ex dei Pu. Inoltre si sta lavorando senza sosta per organizzare entro la fine dell'anno altri eventi celebrativi che si terranno nelle restanti zone di competenza della Banca, tra cui Fisciano, Salerno e Potenza.